L'uomo è sempre andato alla ricerca delle sue origini, avanzando ipotesi, studi, cercando di portare evidenze e soprattutto di convincere se stesso di un legame ancestrale con antichi astronauti, progenitori della razza umana. È ineludibile che noi terrestri siamo stati avvicinati, accompagnati nella nostra evoluzione da qualcuno certamente più progredito spiritualmente e tecnologicamente rispetto alla nostra razza. Anatemi, scampati cataclismi, il mille non più mille, evidenze di contatti con altre civiltà, probabilmente non terrestri, per poi arrivare fino ai giorni nostri, passando attraverso a patti scellerati, con le ultime rivelazioni di un imminente contatto orchestrate ad hoc nei corridoi dell'ONU. Ma loro, gli Eti, lo desiderano questo contatto oppure è solo una nostra necessità? In questo documentario avremo modo di conoscere svariati personaggi, scienziati, scrittori, liberi ricercatori, registri cinematografici, uomini di fede e gente comune che ho incontrato sul mio cammino di ricerca. Ognuno di loro ci racconterà il proprio vissuto, le ricerche che ha effettuato, ricerche che talvolta arrivano da lontano, come quelle del biblista Mauro Biglino. Il professor Biglino ha tradotto circa una trentina di testi biblici antichi, tra quelli più antichi, e addirittura ha scoperto nelle traduzioni quello che potrebbe essere stato la teoria dell'interventismo da parte di popolazioni aliene sulla razza e sul genere umano. Mauro Biglino dà una definizione ben precisa e un ruolo a questi esseri, esseri che lui definisce i progenitori della razza umana. Sono arrivati qui, hanno trovato, si sono scelti un territorio, l'hanno modificato per il loro utilizzo e poi a un certo punto si dice che decidono di fare la damma e lo fanno, ci dicono le traduzioni, a loro immagine e a loro. In ebraico c'è scritto che lo fanno a loro somiglianza con quel qualcosa di materiale che contiene la loro immagine, che è diverso di a loro immagine, ma fanno la dam utilizzando il loro tzelem, così dice la Bibbia. E se noi leggiamo ancora una volta i dizionari di ebraico, aramaico, biblici, vediamo che c'è scritto che tzelem deriva dalla radice ebraica tzalam, che significa tagliare. Per cui tzelem è quel quid di materiale che contiene l'immagine e nei dizionari americani c'è scritto something cut out, un qualcosa di tagliato fuori. Ora, che cos'è quella parte fisica che contiene l'immagine e che può essere tagliata fuori e utilizzata per produrre il DNA? L'unica spiegazione rimane quella di considerare Eva mitocondriale, Eva mitocondriale è un nome che i genetisti danno alla prima Eva Sapiens, e a damo cromosomiale Y come cloni prodotti in molti esemplari. Solo un numero adeguato di femmine e maschi geneticamente uguali fra loro avrebbe potuto trasmettere con successo i genotipi unici e caratteristici propri del genere umano. Cominciano a scriverlo i genetisti. Questo è ciò che ci descrive la Bibbia. Eva è un clone femmina, è un clone del maschio Adamo. E ci dice anche da dove hanno preso le cellule, dalla cresta iliaca. Gli Elohim di cui stiamo parlando sono collocati in un luogo ben preciso, sono vicini all'Egitto. Ma allora questi Elohim, nella Bibbia, ci dicono da dove arrivavano? No. Purtroppo no. Possiamo supporlo? Allora, in uno dei miei libri ho dedicato un capitolo, non alla possibile origine degli Elohim, perché proprio non c'è nessun elemento, ma alla possibile origine di un'altra razza che è citata nella Bibbia che è quella dei Nefilim, che sono quelli tradotti come G. Nefilim, già dei greci veniva indicato come Gigantes, cioè i giganti. Una cosa di cui questo sono sicuro, mai nessuno ha parlato, perché non l'ho mai vista scritta da nessuna parte, io l'ho documentata nel libro e questa non è un'interpretazione mia, basta prendere qualsiasi dizionario di ebraico, aramaico, biblico, curato anche dai rabbini, Nefilim è un termine plurale come Elohim, cioè Im è la desinenza del maschile plural. Il termine nefilà, al singolare, in arabaito, ha un solo significato, costellazione di Orione. Se Nefilim è plurale di nefilà, varrebbe da dire come Italia, italiani. C'è un altro autorevole esponente del mondo scientifico che avvalla la teoria dei Nefilim all'interno dei testi della Bibbia, ed è un professore di fisica e di filosofia, docente della Pontificia Università Lateranense. Una presenza insolita al secondo convegno di fisica e medicina quantistica, Monsignor Gianfranco Basti, una scienza che va verso la religione e anche una religione, la testimonianza che va verso la scienza. Lei ha fatto parte appunto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e ha collaborato anche con l'Agenzia Spaziale Italiana. Ci sono passi nella Bibbia, per esempio se prendiamo i primi capitoli del genere, in cui si parla dei giganti, quindi da sempre è stato ipotizzato che sono enti extraterrestri con cui l'uomo è entrato in comunicazioni nei primi anni, nel primo periodo della sua era, addirittura nell'evoluzione sua e del cosmo. Quindi ci sono queste possibilità. Ascoltiamo bene i passaggi delle traduzioni. Addirittura si parla di armi ad energia che disponevano queste popolazioni extraterrestri. Cioè che tipo di potere hanno rispetto al normale essere umano? Conoscenza è tecnologia di gran lunga superiore a tutti i suoi sottoposti. Per cui se io decido di ammazzarti, io ti ammazzo e tu non puoi farci niente, neanche pensare di ribellare. Tra di loro, quando combattevano tra di loro fino ad un certo periodo, usavano le loro armi. Tra di loro. Poi si sono accorti che erano troppo pericolose anche per loro e hanno smesso di usarle. Ok, grazie. Prego. Ma quali erano queste famigerate armi ad energia? In un riferimento concreto lo troviamo nella vicenda di Sodoma e Gomorra. Perché dico riferimento concreto. Perché ciò che è successo a Sodoma e Gomorra è ciò che è successo, quello che è oggi l'attuale Pakistan, che allora era la civiltà dell'Indo Sereshwati, a Arapa e Moanjodaro. Tra l'altro addirittura negli stessi secoli, cioè tra il 2000 e il 1800 a.C. Quando queste città sono state distrutte da un fuoco che arriva dal cielo e che in un attimo le ha annientate. Nella tavoletta K5004 si descrive una battaglia nel Sinai dove si dice che Nergal sorvolava le montagne, sorvolava la terra dei carri celesti, cioè un aeroporto. Lanciò l'arma del terrore che fa esplodere dall'interno il monte Meshu, che non esiste più. Lancia altre armi e al termine di quella battaglia dice la tavoletta. Allora o questi qui avevano una fantasia incredibile e si inventavano cose che noi conosciamo molto bene, oppure questi qui non facevano altro che descrivere cose avvenute. Il professor Biglino non si è soltanto limitato a tradurre i testi biblici, ma come vedremo ci parlerà anche dei trattati di astronautica contenuti nei testi orientali veda. Per quanto riguarda l'estremo oriente, quindi dai testi vedici a Ramayana, Mahabharata eccetera eccetera eccetera, beh lì abbiamo i racconti di questi qui che là sono chiamati Deva, ovviamente, ma infinitamente più espliciti. Là addirittura in un testo che è il Manika Shastra, che significa trattato di aeronautica, sono descritti i tessuti di cui dovevano essere fatte le tute dei piloti. Sono descritte le diete stagionali che dovevano seguire i piloti. Dal lavoro dei testi antichi giungiamo alle esperienze dirette. Incontriamo un contattista italiano, un amico di nome Tonio, che ci racconterà proprio delle sue esperienze dirette vissute sia in Italia che in Francia. Iniziamo con un crop circle. È il 12 giugno del 2010, quando in quella zona dove Antonio ci sta indicando, vicino a quei pali dell'alta tensione, si sviluppa un crop circle, un cerco nel grano, tra l'altro per due terzi sulla collinetta e un terzo, se mi ricordo bene, sulle tue proprietà. Antonio, ma quella notte cosa è successo esattamente? È successo nella cosa strana. Ho avuto delle sensazioni strane, che alle tre in punto di fatto ho dovuto alzarmi perché sentivo un silenzio surreale. Faceva caldo, le finestre erano aperte, non si sentiva nessun rumore di niente. E non ho notato niente di particolare, però questo silenzio, sono stato alzato, giro vagato un po', e questo silenzio è durato fino alle 4 e 5. Dopodiché tutto è ripreso normale, i suoni erano normali o cosa. Non ho capito cosa fosse successo, mi sono rimesso a letto, poi al mattino rimettrò del campo e non ho trovato una traccia umana che fosse entrata, perciò era impossibile se non si entrava da qualche parte. Tu avevi già avuto delle notizie riferite ai cerchi nel grano, ai crop circle, cioè tu avevi già conoscenza di questo? Erano tre anni che li facevano in questa zona, però io non mi sono mai interessato di niente, non pensavo a niente, proprio ero indifferente. Invece questo qui mi ha colpito, questa cosa che ho sentito questa sensazione prima. Ci avvi raccontato che una persona rincasando, una persona che stava lavorando appunto in un locale pubblico, nel rincasare ha visto qualcosa? Delle sfere collegate, più di una persona hanno visto queste cose, che si è poi saputo dopo che l'hanno detto, che hanno notato su quella collinetta queste sfere luminose, però anche loro è stato lì. Poi l'hanno poi collegato quando è successo. Fatto. Allora ci troviamo con alle nostre spalle il famoso silos dove Tonio ha fatto la fotografia, anzi il tuo figlio ha fatto la fotografia e ricordiamo che il sole tramonta esattamente in quella posizione. Quanto è durato questo fenomeno circa? Un quarto a dieci minuti, un quarto d'ora. L'altezza più o meno è quella nuvola più o meno, diciamo. Sì, quella nuvola. Perfetto. Un particolare, visto che qui siamo con tanti animali, quindi con tanti bovini, i bovini hanno reagito in qualche maniera? No, niente di particolare. Mentre i cani? I cani tre erano terrorizzati, due non gli ha fatto una priega, tre invece volevano scappare in casa, cosa che non fanno mai. Ma le esperienze dirette del contattista Tonio non sono finite. Un giorno a sud di Torino, nella sua azienda agricola, due individui, un uomo e una donna apparentemente di tipo nordico, si avvicinano a lui e gli passano delle informazioni per riparare un mezzo agricolo ormai inefficiente. I due spariscono nel nulla dopo l'incontro. Finché un giorno poi sono venuti qui a casa mia, un pomeriggio, ricordo che ero là dietro, si fermano la macchina, due giovani ben vestiti anche. Erano due ragazzi? La coppia, sempre in coppia. Ah, sempre in coppia, quindi uomo e donna. E avevano una conoscenza che mi sono stupito. A livello agricolo? Sì, perché spiegavo delle cose che a uno di città non gli direbbe né caldo né freddo, invece questi qua entravano nei particolari. Poi siamo venuti qua dentro, abbiamo chiacchierato, intanto lì fuori io avevo un macchinario che avevo smontato. Poi siamo usciti e io ho detto non so come mai il meccanico non arriva, era già quasi sera, tardi. E lui mi fa, ma questo qua è semplice, tu vedi? Quello lì lo devi mettere lì, questo lo metti qua, questo lo metti là, è tutto. Aspito, ma ti intendi anche di questo? Eh, ma non è difficile, guarda che basta capire così cosa è. Poi mi ha salutato, mi hanno salutato e sono andati via. Intanto arriva mio figlio, col trattore, e ho detto non ho incontrato due. E mio figlio gli fa, no, non ho visto nessuno, non ho incontrato nessuno. Allora sono stato zitto e ho detto qui gattaci con. Mi metto lei a questa macchina e io ho telefonato. Mi hai rimontato i pezzi. I pezzi, come questo qua mi ha detto che qua andrà, guarda. Gli ho telefonato al meccanico e ho detto devi non venire più domani mattina che era messa a posta. Mi ha detto ma guarda che se non sei sicuro lì spacchi tutto se ne hai in fase giusta o quale. Ha detto adesso la provo. L'ho provata. Funzionava che era una meraviglia. Come in un'altra occasione, due persone, sempre di tipo nordico, gli appaiono improvvisamente in un viaggio a Lourdes, mentre lui si stava recando sulle colline vicine al luogo di culto ben conosciuto. C'è un punto di inizio per quanto riguarda la tua attività di contattista. È un luogo mistico, un luogo di raccoglimento, un luogo dove si esprime anche la fede, che è Lourdes. Raccontaci un attimo questo bellissimo episodio. Io a Lourdes ci sono stato molte volte e però ho sempre avuto delle... da solo. E ha successo l'inverno che c'era la neve e tutto, ho preso un sentiero che andava su e mi ha preso una sonnolenza. Apro gli occhi e vedo vicino a me due giovani, un ragazzo e una ragazza lì seduti che mi dicono buongiorno in italiano. Loro erano gentilissimi e tutto. Gli ha detto ma è successo qualcosa, qualche terremoto che ho sentito della terra strana. No, 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 niente di particolare, così o cosa, però questo è un luogo. Poi gli ho chiesto se potevano farmi una foto. Io ho dato la macchina fotografica e mi hanno detto di sì e me ne hanno scattato due foto. Sono saliti e ho detto ma... tra me ho pensato e ho detto ma questi quattro dove vanno di là, non sapevo cosa. Ho provato a seguirli. A un certo punto finiva il sentiero, la neve era compatta, tutto, non si poteva più proseguire. Ho detto questi quattro vedo sono finiti. Sono sesso giù, guardo queste foto, ero sempre io ma con due sfondi diversi. dietro di me. Non c'era lo sfondo naturale che... Che c'era la sotto. Ok. Due sfondi nanti. E questa cosa mi ha incuriosito, puoi capire, non farle vedere nessuno, non farle vedere nessuno, sono arrivato. Le esperienze che vive il contattista Togno, il contattista italiano, sono quasi al limite dell'incredibile. Un giorno con un amico, una dirigente di un'azienda che aveva sede a Torino, decidono di affrontare un viaggio richiamati da qualche strano messaggio e si portano su le montagne in confine con la Francia, dove vivranno un'esperienza a dir poco incredibile. Antonio ha un contatto questa volta diretto con non soltanto delle entità, perché fino adesso, Toni, abbiamo parlato di entità, ma questa volta hai un contatto diretto anche con... Ci puoi dare qualche indicazione? Qui ci riferiamo sempre alla Val di Susa. Questo episodio quando è accaduto? Era inizio ottobre del 2011 circa. Attraversando il Valico ci ha sorpreso una tormenta di neve pazzesca, perché girandoci indietro vedevamo la Val di Susa che brillava di un cielo sereno e tutto, e lì nevicava una cosa pazzesca. Abbiamo proseguito un po' finché non si poteva più andare oltre. Intanto che ero lì, ho visto una scia arancione, ma non ho detto niente. Il mio amico continua ancora un po' e poi si ferma e mi fa guardare davanti e c'era una cosa spettacolare. sopra di noi c'era come una... Io sono sesso in manica di camicia nonostante nevicava. Mi sono avvicinato e però a un certo punto mi è venuto da vomitare. Lì corre. E una voce dentro di me che ho capito che veniva da quella. E mi ha detto no avvicinarti troppo perché non sopporti l'energia. Di lì ci siamo andati in questa casa di questo mio amico che è lì a pernottare. E abbiamo dormito lì tutta la notte molto tranquillamente che però nella notte io ho avuto tante cose che... come un risveglio di diversi messaggi di cose che prima non sapevo e che poi dopo le sapevo. Il giorno dopo siamo partiti e siamo venuti a casa. E poi ci siamo corti che era lunedì mattina, non domenica. La comunicazione è una cosa importante. Tonio durante questo incontro sentiva il passaggio telepatico delle informazioni che queste presunte entità aliene gli stavano trasferendo. Ma ci ha anche detto che il linguaggio nell'universo si basa sui simboli e sui colori. Ci puoi parlare un attimo di questi messaggi che vediamo a questa parete? Sono collegati a quello che ti viene riferito? Sì, sono collegati a esseri di altre dimensioni. Essere di altre dimensioni. Allora questo me l'hanno fatto fare una sequenza che era con la quinta dimensione, l'alfabeto della quinta dimensione. Cosa succedeva? Balza all'occhio una cosa interessantissima. L'alfabeto della quinta dimensione è sostanzialmente espresso da dei simboli. L'alfabeto della sesta dimensione, pur riportando quei due quadranti, è molto più sul colore, sulla luce. Esatto. Quindi sembra che ci sia anche un passaggio, un'evoluzione dalla quinta alla sesta dimensione. Come c'è dalla quarta alla quinta. I gradini sono sempre uguali. Tra l'altro quelli che vediamo in alto della quinta dimensione ricordano vagamente anche dei simboli, non dico cuneiformi, ma qualcosa che ci può riportare ai geoglifici egiziani. Esatto, esatto. Ancora antecedenti ai geoglifici. Più o meno la datazione che tu hai avuto? Dai 12 ai 13 mila anni fa. 12-13. Perché l'uomo sapiens nelle fasi finali, diciamo in tempi molto recenti, della sua evoluzione, qualcosa nel cervello cambia. Cioè il cervello non si limita soltanto a ingrandirsi e quindi avere una capacità di elaborazione maggiore. ma l'uomo sapiens acquisisce il cosiddetto pensiero simbolico. Cos'è il pensiero simbolico? È la capacità che noi possediamo di costruire simboli mentali che ci permettono di andare oltre la realtà del visibile. quindi stiamo attenti perché è successo qualcosa di strano, di anomalo, perché solitamente l'organismo è sempre legato al suo ambiente. In questo caso noi invece ci siamo dotati di una caratteristica che ci spingola dall'ambiente che viveva e ci consente di concettualizzare l'infinito e il trascendente di tutto questo. Cosa che non esiste in natura. Non esisteva neanche in Neandertal, il nostro più vicino, diciamo, un parente, un cugino evolutivamente parlato. Homo sapiens acquisisce questa caratteristica recentemente. Non si sa con quali modalità. Qualcosa cambia a livello del DNA del genoma di qualche hominide. Ok? Non si sa cosa. Abbiamo parlato di evoluzione della coscienza. Ci stiamo preparando a un salto per la nuova dimensione? Forse sì. È quanto afferma il regista cinematografico Frank Jacob, autore tra l'altro del film Packing for Mars che abbiamo incontrato lo scorso anno. Essentemente, ciò che sta succedendo nel centro della nostra galaxia c'è una macchina, in un area chiamata Sagittarius A. E per i ultimi anni, c'è stato un massimo corpo, un planeto plasma che è stato sottato in questa macchina. E il risultato è che c'è stata una massima explosione, o un'implosione, una explosione simultaneamente che ha spostato molta energia sul nostro planeto. E per la forma che è l'alignazione della galaxia, la nostra Terra, la nostra Terra, la nostra Terra e la nostra Terra sono ottenendo molto più di questo direttamente che ciò che ciò che è mai avuto. Il Maias parlavano del cosmo di centro della galaxia e è interessante che potrebbero sapere oltre oltre anche un'immagine di questo ma è davvero accaduto e, con l'amplosione con la Terra di magna, queste nuove energie cosmo sono effettando la biochimia e, in particolare, le glande che risonate a una frequenza molto simile come le frequenze che sono arrivano nel nostro planeto. Ora, questo è tutto come un giallo che le energie risonanti sono riportando la fielda di magna della Terra. Le risonanti sono iniziato a vibrare più forte, e ci sono iniziato a effettuare con la biochimia e la biofisica che il corpo e il corpo e il organismo vibra anche in una frequenza quindi c'è una trasmission risonante proprio come quando fai un forco sullare 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 la frequenza quindi non è perché pensiamo perché stiamo resonando con l'universo con il corso dell'universo ma l'ipotesi ex terrestre dove l'abbiamo lasciata hai avuto però un'indicazione da dove arrivano queste entità esattamente da quale punto del cosmo con me sono della costellazione del pavone precisamente ho avuto dei contatti con quelli del pianeta iron iron ok iron si ok e questi qua del pianeta iron sono prevalentemente cioè tutti tutti terrestri che hanno fatto carriera l'escursus incomincia a prendere un po' forma mi piacerebbe utilizzare questo termine da quello che ho capito ex terrestri e non tanto extraterrestri ma ex terrestri che sono nati ad abitare in un'altra dimensione in un altro pianeta e da lì riescono ad interagire con noi e da qui anche un po' la definizione di tutte le razze che si studiano che abbiamo anche come evidenza a livello proprio di bibliografia o comunque di ricerche quindi possiamo definire anche che sono si potrebbe definire che sono anche così degli ex terrestri che ritornano nella nostra dimensione tra l'altro c'era stato anche un episodio di star trek su questo ritorno alla terra a questo punto vi chiederete qual è la mia opinione ebbene l'ipotesi ex terrestre è quella che certamente mi affascina di più mi affascina perché fin da bambino ho avuto questo sentore questo segnale forte che i nostri progenitori non fossero altro che persone che avevano già vissuto la terra in tempi magari antichissimi e che per la dipartita per la morte e quindi dopo aver lasciato il proprio corpo il proprio involucro l'energia di queste persone sia andata in un'altra dimensione in un altro pianeta l'universo che conosciamo e i multiversi sono sconfinati quindi non ho certamente delle basi scientifiche per definire per supportare questa teoria rimane soltanto una teoria che è Grazie a tutti. Grazie a tutti.